Sono Dio, altro Dio, e Adore del Cielo e del Perno. Di tutte le cose e i signori e i visivi. Credo, sono Signore Gesù Cristo, un'Illene e un'Illene e un'Illena e un'Illena. Alla la Pabata di uno di tutti i sogni. E io e tu, luce da luce, io vero e il vero, che dài, creato nella stessa sostanza dal Padre, Per mezzo di lui tutte le cose sono state create per lui e per la nostra salvezza è discesa dal cielo. E però per la maggioranza di lui lo sapevo, che si è incarnato nel seno dalle vergine e la divina, che si è fatto uomo. Il giudizio per noi è stato un po' assimilato, lui è il giudizio, il terzo giorno è riuscitato secondo le scritture, che servono a giro sia all'estrata del Padre, e di nuovo per la maggioranza di un carico che è morto, e ciò è il giudizio per la figlia. Credo nel Spirito Santo, che è il Signore da noi, che procede dal Padre e dal Figlio, e con il Padre e il Figlio è adorato e glorificato, e ha parlato per mezzo della fede, prego la Chiesa, la Santa, la Cattolica e la Costituzione, professo, il suo battesimo per il perdono e per il carico, e aspetto alla risurrezione dei morti e la vita del mondo, che verrà. Amen. Diciamo insieme, ascoltaci, Signore, ascoltaci, Signore. Maestro sapiensi, che sei venuto a eliminare i tuoi discepoli, dona alla mamma il resto di la tua voce, per accompagnare la Chiesa secondo la tua volontà, pregiamo, ascoltaci, Signore. Cristo, Re dell'Universo, conduci la Chiesa a collaborare con i governanti, affinché essi producano le regi che rispettano e favoriscono la dignità umana, pregiamo, ascoltaci, Signore. Figlio di Giuseppe, che hai condiviso la famiglia degli uomini per il padre del piano, assisti e proteggi il quadro di lavoro, per provvedere a sé e ai produttori con un'unità ammessa, pregiamo. Ascoltaci, Signore. Emanuele, Dio, che non hai disegnato la voce per la nostra salvezza, dona alla nostra comunità ammessa di seguire il tuo esempio, pregiamo. Gesù, che vivi in libertà e gloria, accogli il tuo regno ai nostri fratelli e ai nostri fratelli, che hanno portato il lavoro e il tuo potere da Niente. Ricordati il modo particolare del nostro fratelli, Orazio. Emanuele, Dio, che non hai disegnato la voce per la nostra salvezza, pregiamo. Ascoltaci, Signore. Signore, Dio, che ci pria conoscere il volere del padre, accogli a mia figlia perché abbiamo il mondo, e che ci fuori sia in tutti i nostri fratelli, perché abbiamo il nostro fratelli e l'euro di essere con il nostro. Amén. Grazie. 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 Grazie a te, grazie a te, grazie a te. Grazie a te, grazie a te. Grazie a te, grazie a te. Grazie. Grazie. Grazie a te, grazie a te. 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 e l'altro ritengo qua per Cristo non lo so un grande amico viene cedato come la giornata di oggi viene santificata una donna ma non deve essere che sono parte dell'Italia ai loro anni e ai loro anni questa donna io ho avuto l'opportunità di venire da lì nello Stato del Dario quando una sera fu accolto più o meno da una migliaia di vedete e sulle sue persone della sua vita oggi questa donna voglia benedettere tutti quanti di noi soprattutto tutte le donne tutte le mani tutti i loro che si sbordicano per i grandi della famiglia vogliono accendere questo che è un Dio al nostro corpo perché ne abbiamo il sogno del suo avuto e della sua grazia e anche noi noi possiamo di rilasione se perdiamo questo al nostro giorno della sua e del suo il fondo della gloria vi auguro una buona donna grazie il Signore sia con me vi benedica come un potente guarda il figlio e il figlio la testa di vita nel nome del Signore andiamo grazie grazie